Dalla pasta al vino, dal caciocavallo al babà alla moretta, fino alle iniziative volte a promuovere le eccellenze locali. Sono stati dieci i riconoscimenti consegnati questa mattina ad altrettanti imprenditori, professionisti e rappresentanti di associazioni locali che hanno valorizzato prodotti e luoghi facendo conoscere le nostre tipicità e le caratteristiche del territorio. L'appuntamento, organizzato da Confcommercio e alberghi consorziati, si è svolto all'interno dell'azienda fanese Nucopromo, un grande centro di spedizione delle vongole. Il nostro è un territorio straordinario ma per diventare una destinazione turistica bisogna promuoverla e erogare dei servizi ai possibili turisti. Noi quello che abbiamo fatto in questi anni è stato appunto di svolgere un'intensa attività di promozione in Italia e all'estero cercando di valorizzare tutti i cluster, tutti i segmenti della nostra offerta. Tra queste ovviamente l'offerta dei sapori, l'offerta enogastronomica dal pesce dell'Adriatico al tartufo del Monte Feltro. Questa qui poi di Fano è un'eccellenza assoluta perché qui a Fano si concentrano molte produzioni tipiche, anche innovative come il caso ad esempio dei profumi, che legano il prodotto enogastronomico al territorio. Il turista di oggi non è più quello di una volta, il turista di una volta veniva a Fano magari per andare al mare, si crogiolava sulla battigia e poc'altro. Oggi il turista vuole immergersi nel territorio, vuole vivere l'emozione di scoprire il territorio e nel territorio ci sono prodotti straordinari. Migliorare l'accoglienza e potenziare l'attività di promozione sono dunque gli obiettivi del progetto legato alle tante iniziative portate avanti sino ad oggi, come gli itinerari della bellezza o quelli archeologici e della fede. A breve inoltre verrà presentato il nuovo itinerario musicale in cui rientrerà anche il museo della batteria di Fano. Dobbiamo dare agli imprenditori gli strumenti necessari per potersi promuovere, ha aggiunto la presidente di ConfCommercio Fano, Barbara Marcolini, che ha sottolineato l'indotto economico che viene creato. Invece l'assessore Eti Lucarelli e il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi hanno evidenziato la necessità di fare rete anche per offrire esperienze immersive e multisensoriali. È il secondo anno che abbiamo fatto questa iniziativa per lanciare i prodotti dell'enogastronomia e non solo, perché abbiamo avuto anche aziende che hanno fatto profumi, gadget, su Fano. Naturalmente il turista che ritorna a casa non vuole avere la solita cartolina, ma abbiamo dei prodotti tipo la pasta, l'olio e naturalmente io penso che quando mangeranno quella pasta o asseggeranno quell'agno ripensano la nostra città, la nostra introterra.